Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi di cosa è successo nella casa più spiata d'Italia all'inizio di questa settimana. Gli inquilini hanno deciso di iniziare la giornata con chiacchiere e relax, aspettando la puntata di stasera. Dopo essersi svegliati, alcuni hanno scelto di godersi il sole ascoltando musica, mentre altri hanno preferito dedicarsi all'attività fisica. Beatrice ha optato per un bagno in piscina per allenarsi e rilassarsi al ritmo della musica. Giuseppe si è unito a lei poco dopo. La canzone, A mano a mano, ha fatto sì che i concorrenti tornassero con la mente al loro passato, ricordando il loro primo bacio. È sempre interessante vedere come la musica possa scatenare ricordi e emozioni così profonde. Non vedo l'ora di scoprire cosa accadrà nella puntata di stasera, e come i rapporti tra gli inquilini evolveranno. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla vita nella casa. A presto con nuove news. Grazie a tutti.